A teatro della Versiliana il nuovo tour di Arisa che segna anche il ritorno ai concerti dal vivo dopo la sosta forzata dovuta al lockdown. Ricominciare ancora Live Set 2020, questo è il titolo dello spettacolo andato in scena ieri sera a Marina di Pietrasanta per la 41esima edizione del Festival della Versiliana. Due ore di grande musica interamente in versione acustica con una scaletta che oltre al nuovo singolo che dà il nome al tour ha riproposto i successi della cantante tra cui Sincerità che ha fatto conoscere Arisa al grande pubblico. Ascoltiamola insieme un passaggio. Sincerità un elemento imprescindibile per una relazione stabile che punti all'eternità.